Domenica 26 ottobre, da Capestrano, salita a Collepieto. Vittorio, eccolo, direzione Collepieto, discesa prevista per Valle Gemmina e ritorno a Bussi. Ed eccoci, ormai siamo quasi a quota 900. Vittorio nel momento di massimo sforzo, alle sue spalle una bella rampetta ripida. Ormai siamo nei pressi di Collepieto. Si aspetta la lunga discesa, speriamo divertente, nella Valle Gemmina. Vai, nel momento di massimo sforzo. Ormai quasi pianura e discesa. Tratto impegnativo, tecnico. Bellissimo single track nella Valle Gemmina, uno spettacolo. Grazie. Grazie. Grazie.